let's play salve a tutti crostarci i gamberetti in questo nuovo video siamo qui con il manomeno al dottor e bla 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 ciao a tutti e gli altri finocchi e gli altri finocchi allora si del il fratello di mammy dd salve e poi c'è feeling will bella 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 ma che cazzo ha flashato no no ha flashato no alessano mi fa schifo e no alessano caccapo oh no alessano ti faccio vedere il grab alessano guarda il grab alessano il grab guarda alessano tu stai guardando si ok è morto twitch hai visto il grab ma adio vittorale perché ci abbiamo il jam che schifo voglio andiamo a fare il campo di giugno non facciamo oh ma tanto giugno voglio facciamo i campi giugati allora vi mostro come si fa allora si capra qua dentro sneaky sneaky ha forzato ok alessano viene mastery guarda ha guardato qua non so ma viene mastery no non viene mastery e allora facciamoci povere michel povero michel in giugla dopo lasciatecela voglio lasciatecela però usati pt metti flaggo ma è andato sto struso scusami è andato a delay ah meet vatti a fare il red ciao masteriii mettete una ward qua metti ci credo Ah ward up perchè? fate schifo voglio fate schifo ma l'ha smetato la merda Vai, ti aiuto io, non ti preoccupare Il drago, il drago Vai, vai, ti aiuto io al blu Tu non ti morda qua, imo lo grab Adesso io vado un attimo back dopo il red Ma tu vai top Sta free farmare quello top E' quello stato a mezz'ora con noi Vabbè adesso c'ha 15 stack in 3 minuti di game Lasciami il grande Ma io non ho il 2 Ciao Tamgenjo Non hai il bue Non ho il bue e l'asinello Oh, però Mastery è morto indietro Sto pensando Adesso ho il bue Alessà la Q Facci la Q No Alessà Ma perché non l'ho preso? E' un bug, io l'avevo preso Oh no Alessà Eh mates vai back Cioè fatti questo e poi vai back Alessà c'è No si è rotto il città di un bellone O sto stronzo Adesso ti faccio vedere come grabbare un dopo Guarda tutorial su youtube No non è bello Metti la trappoli Metti la trappoli No quello è che No no Alessà questi ci uccidono Manaccia No ma devo cambiare partner Non sa giocare Lo scudo mezzola dopo Inutile Non mi ha ucciso il minion Per poter grabbare No cambio partner Alessà basta No basta Perché tutti che stanno Sono meiafo no No si si Alessà che cazzo fai Guarda 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 Fista Alessà Alessà Ti si va a mangiare Fista Alessà Il l'hkber No Via 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 Easy win Alessà si win Dai là Prossimo 3dp Comunque si è messo avanti Quello ciccione è bastardo Eh ma noi Quelli che hanno mai Di testo Una doppia punta Non ce l'ho riuscito Alessà Alessà Fare queste cose Adessà guarda che bravo Ma che cazzo Si è messo avanti Sto coso Ma si è messo all'ultimo Avanti Come sei morto Vedi che sei una brutta persona Ah ma c'è Sto di co Sto tutti su Sto la fa la testa È perché tu mi porti su E poi È normale Perché è caduto È morto Ma arrivo Adessà guarda che drape Bello Ma che cazzo Perché non basta In mezzo al minio Adessà andiamo Perché Nice pet Dopo Non c'ho le words Bravo In effetti Che coglioni No Pensando In realtà Tutti abbiamo Il tipino In realtà In effetti Lasciamela Le grande Non toccato Però Tra poco C'ho la stack Alessà mettino Qua Questa è tattica Io c'ho i soldi Andiamo back Io non ce li ho i soldi Oh e non me ne frego Ma è back Lì signo Vieni qua dopo Tipi bot sulla words Ti fa tondenza Alessà Fa la starta di Ma che cosa Starta di statica Non fa il trimono Ya Ya Push Alessà Non push Non push Non push Non push Alessà Iniziamo ad andare A piedi Alessà Poi Casomai Gli facciamola Tra Vabbè Facciamola A 6 Alessà Come bravi Drolli E guarda Stronzo Che si mette Là dentro Alessà Io lo reporto Ma perché ho sedia Ti ho messo Mi sa feci Ma perché quella maestria Non va al giro Ah no E punto Alessà Nemmeno le maestrie Ti fa Io lo dico Io devo cambiare partner Mamma mia No il cane è quello La doc Non è il dio Ok Alessà Questo mi sa Che la surrambiamo C'abbiamo Un asus Ah no Il master 2-0 Infatti Alessà Guarda qua Alessà Guarda che Questa Alessà Ma noi pensate C'avevamo ancora Nel tp E tu trolli Nel tp Eh Bello Mid Su mix Alessà Prendiamo il 6 Che lì Alessà Alessà Vai Alessà Vai Alessà La cù Uh Boto Sto godendo Vai Alessà Vai Vai Alessà 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 Perché non l'hai preso Guarda che Hai visto Grazie Alessà Alessà Ci vediamo con calma Io uso la E E tu lo dai Gis 11 Non è vero Non c'è bisogno Oh Alessà Alessà No Gaggiatemi Eeeh Mamma mia The god It's dominated Ragazzi Non sappiamo Ma che un grazie Io Io ho fatto un grab Alla cazzo Alla In effetti Si faceva una triple Oh Alessà 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 Che nudo Oh Non vado Arrivo pure io Di tipi da dietro E Ale Dove il capo Dove è Qua Ciao Sono io Ciao Alla Chi arriva di tipi qua Lol No Non c'ha di tipi Oh Mates Mates ci sta Togliete le ward Toglie le ward Se vai dopo Grazie Non ho flash Si ma quello là Mi sta fiddando troppo Adesso Devi morire Dobbiamo fare lo stesso Scorrano Questa Poi è l'ulti Giusto E allora Vado che si fa Io l'ulti Adesso mi ha mangiato Non ho fatto un cazzo Oh ma Mastery Che cazzo Ma il nostro No, c'è Master Yi TP 217 secondi Chi la O ci crepa adesso Guardate come muore la O Non sa che c'è Master Yi Ah, queste poppy fiderine Queste poppy fiderine Eh, vabbè, vai giù Eh, Andrea, guarda Non sa che c'è Master Yi Lol Guardi, io ti rendrei A caso Secondo me Oh, che schifo Adesso la potrei buttare Ma secondo me qua arriva il blitz matto Arriva il blitz matto Arriva il blitz matto Arriva il blitz matto La passiva si sta facendo In realtà non è la passiva Il blitz matto Il blitz matto Attenzione, il blitz matto Il blitz matto Unlucky Vai Alessa, vai Vai Alessa, non ti preoccupare per me Io ho uno shield Non ho paura di mettermelo E poi sono morto come un goglione dalla torta Unlucky Allora hai visto che è grabba Alessa Hai visto che è pazzo Hai visto? Abbiamo visto Adesso è proprio Paolo Capuccioni Stai cambiando il passo Adesso mostragli l'amenanza Aspetta L'amenanza Alessa L'amenanza Non c'ho Mica, mostragli l'amenanza Che cazzo ho mostragli? C3L più 6 C3L più 6 C3RL più 6 L'amenanza Pure tu, pure tu feeding l'amenanza L'amenanza Eh, io lo so Non ce l'ha Non sei nè Allacchio Adesso la bot che dici? Ma chi vogliamo fidare? Guarda come Eh, ma bot che dici? Alessandro c'è il TP eh Sì, io il TP Oh, è vero? Allora aspetta, come ti facciamo? Facciamo una cosa? Oh, bella mia Sì, ma il tuo alleno video Io l'ho riporto Arrivo dittimo Ok, mix Aspetta, Alessandro non usalo Usalo Eh, sto morto ancora Ma tu mori Cioè, mi cogliono Vai, vai, vai Ma... Ma... Ma adesso è qua Ma adesso ho messato i grabb Lavorosamente Alessabella sta un' Ma adesso vai Ma qui mezzo Perché non ne ho tanti? Alessandro va Alessandro va Alessandro ho messato tutto comunque Cheater Cheater Alessandro 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 siamo uscite Alessandro Alessandro da quando Yasuo è diventato un giro? Io ho TP, mates 10 secondi Alessandro vai, rimani Alessandro scappa Alessandro scappa Alessandro scappa Alessandro scappa Alessandro vai, così No Beh Alessandro 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 adesso la difendi la media 1v1 mates, 1v1 adesso ho pinto l'1 contro 1 contro 12 adesso ho pinto l'1 contro 1 contro 12 una world quacqua che vengo di tipino ma fai tipi sulla torre ma sulla torre mi sgamano eh vabbè ti sgamano uguale io sono swag e l'ho fatto ok adesso e vai stronzo stronzo porco dio porco dio piglia questo ma giù ma fate schifo però eh io vi report ma vi report cioè faccio più da mio fate schifo eh fate schifo mica è colpa mia guarda che grapplo unlucky il blitz matto il blitz matto voglio guardate il blitz matto lol voglio andate via da un minuto se non volete morire adesso adesso questo non lo adesso sono mischicando tutto niente no adesso 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 ci tocca sempre 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 ma io sono un coglione devo farmi la goccia coglione sono dimenticato di farmi la goccia a rio mi quando vuoi blitzcrank col thunderbolt eh mi raccomando ragazzi sta salendo mio è vero che è mio è blu è vero eh ciao ragazzini ciao come siete bellini siamo diventati insieme ai mitra all'ati bye mints ciao mints ciao mints addio mints lob ma perchè ok ho provato a salvare te ho fatto un'ora fa con ragazzi bravo bravo vado a vedere avete un grosso problema dai siete 4 di voi vado ma che ti sciolgo siete 5 di voi Cioè non riesco a carriarvi Siete incarriabili Vai Vai ci crepi per primo tu A me non ho allentato Dove cazzo è andato Bravo Alessandro Tu si che sai giocare Guarda ma stai lì Nessuno lo va a stompare Che schifo Bravo, bravo, così si fa, bravo Sta qua, no dove sta Sta qua Perché sta feitando contro una altra scuola Ma perché il laudio è rimasto da solo a combattere e a morire Hai visto, hai visto E sei morto però me Ultalo, ultalo Ma è schifo Ma è schifo Che schifo di scritto Non sto scherzando Alessandro Sa questi blitz ha matti Ragazzi faccio un party Guardi ma io devo difendere un mid Alessandro Sto 7, sto 7, sto 7, sto 7, 3 Sto 7, 3, sto 7, 3, lo Il blitz matto, il blitz matto, il blitz matto No, non lo posso fare Il blitz, ah, guadio, guadio, chi se lo guarda a sto uno contro uno a me? No, no, non lo faccio più, faccio che sta Mace, quello Shotta però, ok Guadio Se ci jumpi Calma, calma, guadio, 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 no E' pazza quello Alessandro, che cazzo, dove stai? Sto splittando Ti riporto, Alessandro, è un perso il fight per colpa tua Ma ve lo ho preso Mie, mie, Alessandro, vieni E me lo puoi fare l'altro, vedi? Wow, Alessandro, è un perso il fight per colpa tua Blitz matto, blitz matto, lol Ma questi si refullano tutti quanti, lol, mi ha preso Il blitz matto Ah, stava qua, lucky Come se ha l'addio Adesso, 4, 3, 2 Adesso, 2, 1 Adesso, Adesso Volevi, eh Volevi, eh Adesso Abbiamo un master matto dietro Certo, master Stai feeding, ti ho shieldato Aiutatemi Qualcuno che viene qua Qualcuno che viene qua Lassi Lol Alessandro, mi dona il premio Nobel per Per Blitz matto Alessandro, veloce Veloce, veloce C'è il coso C'è il Champions Krause Voi, voi fate Io tommo il lutto Alessandro, ce l'ha il lutto Ma non ci credo Il mina di merda Vabbè, sono un coglione No, sono un coglione Vabbè, vabbè, scappate No, no, scappate Scappate Un coglione No, W, 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 W su Alessandro L'ulti Ma c'è l'ulti Ultalo, jump a via 3 di loro Ho sbagliato, da Ho sbagliato Il minuto di merda Si è messo avanti Beh, chi è che sta a mora Alessandro, arriva a Blitz matto Alessandro Alessandro, perché non dipende Rapport Rapport Maggio, mi raccomando Prendete quella Guarda, Alessandro, così la vediamo Aiutatemi Guarda, ma che cazzo state facendo Guarda, 3 dementi 3 ne siete 3 dementi 1 più dementi di un altro Mi mette a fetà Che mi mette a uccidere La copia Sì, le coglioni Alessandro, avevo preso Nasus Se l'ultavi ti faceva Alessandro Alessandro, ti riporti Alessandro, guarda che meccanica Alessandro, tu non la capirai mai Il blitz matto Alessandro, il blitz matto Alessandro, il blitz matto Alessandro, il blitz matto Alessandro, ma che vuole capire Alessandro, il blitz matto Alessandro, ma che vuole capire Il blitz matto è verso What? Non è già arrivati I danni dell'ulti has E Il blitz matto Alessandro, la colpa è sempre Il blitz matto Alessandro, la colpa E il blitz matto Alessandro normale o la gravata no non ti preoccupare per la riot è tutto normale vabbè in realtà sta 12 1 abbiamo un fider in team che dobbiamo fare no vabbè ma i fider è la oia dopo lo riportiamo come da giù che dico questo scherzate mica della stia prendendo io all'anno e basta mente basta non la voglio una mano la mia passiva guarda quanto è scarto la mia passiva dell'ultimo ma io faccio schifo non usare blitz arrivo mi arrivo mi è saldi smatto le sale saldi smatto le so le saldi smatto per team nome folla e team nome folla aiuto a giù ma dovete venire da cazzo di popolo davvero giù mamma mia non è mia questo feeling mamma mia scappa scappa il blitz matto chiama 0 8 1 7 5 9 9 99 il blitz matto ma voi non follow up zero follow up zero follow up il blitz matto il blitz matto il blitz matto il blitz matto lo grabba sotto torre eccezionale il blitz matto non può fare un cazzo il blitz matto ti salvo io non promesso perché volete sovrendarlo è già vinta questa partita non scherzate max mamma mia il blitz matto folla kill il blitz matto ho ucciso un nemico sono troppo forte alessa non c'è sale però non facciamo il bronzi non facciamo dire che siamo brutti alessai il blitz matto alessai il blitz matto alessai il blitz matto dov'è no ma giucato alessai perchè non c'è il blitz matto alessai che cazzo il blitz matto alessai il blitz matto alessai il blitz matto ha problemi di hp il blitz matto alessai il blitz matto alessai il blitz matto alessai il blitz matto alessai sto dando di bingto no asterno aspettando i secondi in questi casi si chiude wifi sul cellulare e si chiude le porno giusto a san Scusami, lascia il gran Grazie È mio, 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 è mio Ma che cazzo sto con Non ti preoccupare, noi andiamo tutti back adesso, tutti back adesso, andiamo tutti su di cazzo duro, vai, 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 a cazzo duro, vai, a cazzo in faccia Alessandro, vai, mamma mia questo Fidimi che ti dà ancora, te lo sei scelto bene il nome Questi blitz, 1v1, 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 hai giunto È tutta colpa di blitz, ragiona Alessandro Aiuto, 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 eh già che cazzo il team non mi vuole Ma sono tutti morti, ma fate schifo Non riesco a carriarmi, che schifo, Alessandro, lol, Alessandro shot e non riesco a carriarmi, lol, Alessandro Revolta Alessandro, forfeit di lui, Alessandro è schifo Non sono 180 Mn, lo faccio bene Alessandro, sono 180 Mn, ho mai evitato Son pochi 180 Mn, non gli riporti No, Alessandro è schifo Mi raccomando, siamo tutti i tipi Mn Ho comunque più mn del loro Mnb, le due odio carry Ma qua Alessandro, tu sei proprio Dai, lol, all'alhaki Spero che il video vi sia piaciuto Ricordi di lasciare un like e mi sono dimenticato di dirlo Nel solito che il 25 Mammi e siete spacciati verranno al Comic Con Quindi se qualcuno viene a Comic Con E ci sarà per salutarci Scrivete nei commenti Hashtag io ci sarò Per sempre A parte gli scherzi Seguiteci sui social Ciao ciao ragazzi salutate Ciao Ciao